28 anni per Fabio e 25 anni per Nicola Riva, le richieste di condanna formulate da IPM per i principali imputati al processo ambiente svenduto sul disastro ambientale contestato all'Ilva di Taranto. 5 anni chiesti anche per l'ex governatore della regione, Nicchi Vendola. La Procura apre un'inchiesta sul Covid Hospital realizzato a Bari in Fiera del Levante, indagine esplorativa per passare al setaccio, procedura di affidamento dei lavori e aumento dei costi. Nelle scorse settimane la consegna delle chiavi al commissario del Policlinico in attesa dell'attivazione. Le vaccinazioni nelle caserme e nei palazzetti, un esercito di 300 mila volontari in campo per la logistica e per aumentare il personale dedicato alle somministrazioni. Mezzo milione di dosi al giorno come obiettivo a partire da aprile, questo il piano di vaccinazione nazionale. Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Antenna Sud. Apriamo dunque con il governo, ok del Senato alla fiducia a Draghi con 262 sì. Ricostruire il paese per il futuro, amore per l'Italia, richiamo all'unità delle forze politiche per il bene dell'Italia, appello al Parlamento del Presidente del Consiglio che si richiama allo spirito repubblicano. Scelta dell'euro, dice Draghi, irreversibile. Sentiamo i commenti di alcuni parlamentari pugliesi. Io ho molto apprezzato il suo passaggio quando ha richiamato alla necessità di creare e di lavorare su politiche di genere che lasciano pari opportunità e non elaborino esercizi esclusivamente rivolti alle cosiddette quote. Ha tracciato quelle che sono le linee programmatiche che anche noi chiedevamo e abbiamo anche chiesto in queste giornate. E quindi i punti salienti, è chiaro che lui ha sottolineato come questione più importante programmatica del nuovo governo il piano vaccini sul quale assolutamente ci deve essere l'impegno e lo sforzo di tutti. Noi oggi abbiamo parlato come Lega di Sud, ha parlato un uomo come me che è del Sud, meridionale, che ha l'accento meridionale che ha parlato dei temi del meridione, dall'ILVA alle infrastrutture, a tutto quello che di fatto c'è da dover risolvere sia in temi di ristori, di ambiente, ma che va fatto sia in Puglia, sia in Campania, sia in Calabria, sia nel meridione, ma anche in tutta Italia. Spera equazioni non ce ne devono più essere, noi ci crediamo. L'unità in questo momento non è un'opzione, ma è una necessità. E questo è un invito a tutte le persone di buona volontà a rimboccarsi le maniche e a dare il loro contributo per fare in modo che il Paese esca dalle secche nelle quali è finito per la pandemia e per la crisi economica che c'è e probabilmente ci sarà anche dopo. 28 anni per Fabio Riva, 25 per Nicola. Queste sono le richieste di condanna, alcune delle richieste di condanna formulate dai pubblici ministeri per i principali imputati al processo ambiente svenduto sul disastro ambientale dell'ILVA di Taranto. 5 anni chiesti anche per l'ex governatore della regione, Nichi Vendola. Sentiamo già Marco Sansolino. Riva Nicola, si chiede la pena di anni 25 di rivoluzione. Riva Fabio Arturo, di anni 28. Capo Grosso Luigi, di anni 28. Richieste pesantissime quelle formulate dalla pubblica accusa Taranto dinanzi alla Corte d'Assese per il processo ambiente svenduto chiamato a chiarire le responsabilità del presunto disastro ambientale per l'exILVA gestita dai Riva. Oltre agli ex proprietari e amministratori dell'azienda e l'ex direttore, tra le altre richieste figurano Girolamo Archina, 28 anni, 7 anni per Francesco Perli, per Bruno Ferrante, 17, 20 per Adolfo Buffo. In merito agli ex amministratori pubblici, 4 anni per il presidente della provincia dell'epoca, Gianni Florido, e lo stesso per il suo assessore all'ambiente, Michele Conserva. 5 anni per l'ex governatore di Puglia, Nichi Vendola. 8 mesi per l'ex assessore regionale, Nicola Frantoianni, e attuale parlamentare di sinistra italiana. Per l'ex sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, invece, il non doversi procedere per reato estinto per intervenuta prescrizione. 17 anni richiesti per Lorenzo Liberti, ex consulente della procura, accusato di aver rappresentato il falso nelle consulenze per Giorgio Assennato, allora direttore di Arpa Puglia, un anno. C'è stato un abbraccio mortale, perché il gruppo che è andato a gestire dopo l'impianto, è stritolato la città, provocando quello che ormai sappiamo, malattia e morte. I soldi, i motivi a delinquere sono i soldi, gli impianti dovevano marciare al massimo, alla massima produzione, tutto il resto veniva meno. Cos'è soddisfatti delle richieste? Beh, sono le richieste che ci aspettavamo e la procura ha dimostrato come tutte le accuse fossero fondate, fossero vere e che gli elementi portati dalla difesa sostanzialmente fossero non atti a minimamente incrinare l'impianto accusatorio. La procura ritiene non meritevoli di concessioni delle attenuanti generiche nessuno degli imputati, po' per l'intensità del dolo e la gravità del falto. Il danno sanitario è emerso. È stata però richiesta anche la confisca degli impianti del siderurgico di Taranto, nonché quella per equivalente, per il lecito profitto, di 2 miliardi e 100 milioni in solido tra Ilva, Riva Fire e Riva Forni Elettrici, le tre società imputate. Un aspetto non indifferente che promette di pesare e non poco sul futuro degli impianti di Arcelor Mittal e su quello della città. Un ospedale i cui costi sono lievitati nel giro di pochissime settimane, da 8 a 18 milioni di euro. Stiamo parlando del Covid Hospital realizzato a Bari, sul quale la procura ha aperto una indagine esplorativa per passare al setaccio, per vedere meglio, leggere meglio le carte legate alla procedura di affidamento dei lavori e del perché c'è stato questo aumento esponenziale dei costi. Nelle scorse settimane la consegna delle chiavi al commissario del Policlinico Vitangelo Dattoli, un ospedale che è ancora in attesa dell'attivazione. Focolai Covid nelle RSA, c'è l'inchiesta. La procura di Bari ha aperto un'indagine sui cluster nelle RSA e case di riposo scoppiati nella seconda ondata della pandemia a partire dallo scorso autunno. L'inchiesta, senza indagati, né ipotesi di reato è affidata ai carabinieri del NAS, cui è stato delegato il compito di accertare eventuali criticità nella gestione delle strutture dove si sono verificati i casi di contagio. Gli investigatori hanno raccolto documenti, testimonianze e fatto ispezioni in diverse strutture del territorio, in alcuni casi di iniziative e in altri su delega specifica. Proprio come è successo per la RSSA, Fondazione Villa Giovanni XXIII di Bitonto, dove a fine gennaio è scoppiato un focolaio con 110 positivi, 80 dei quali anziani. Attualmente dopo il decesso di una decina di ospiti, i contagi si sono più che dimezzati e la situazione è costantemente monitorata anche dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Le verifiche dei NAS puntano comunque ad accertare se qualcosa non abbia funzionato nelle misure preventive per evitare la diffusione del contagio. Gli accertamenti hanno riguardato anche altre strutture interessate dai focolai, a Molfetta, Conversano, Corato e anche su iniziativa dei NAS nella RSSA Casa Caterina di Adelfia, dove erano stati rilevati 89 contagi. Attualmente sono 26. Una settimana dopo la somministrazione della prima dose di vaccini anti-Covid che era stata salutata nella casa di riposo con una festa con balli e musica. Dunque il governo si appresta a barare il piano per le vaccinazioni di massa. Si parla di caserme e palazzetti come hub per le vaccinazioni. È un esercito di 300 mila volontari in campo per la logistica. Insomma anche personale che sarà dedicato alle somministrazioni. Si punta al mezzo milione di dosi al giorno come obiettivo a partire da aprile, sempre che arrivino naturalmente i vaccini. Facciamo il punto. Prende forma il nuovo piano vaccini dopo le indicazioni che il premier Mario Draghi ha dato in Senato, ribadendo che l'immunizzazione di massa degli italiani è la prima sfida per il governo del Paese. Nei prossimi giorni ci saranno una serie di incontri per definire le linee del piano organizzativo e logistico, piano che però non può che essere strettamente vincolato alla fornitura dei vaccini. Senza dosi la campagna non può partire. Per il momento i numeri nel nostro Paese sono limitati. L'ultima previsione indicava 14 milioni di dosi entro la fine di marzo, sufficienti per completare la vaccinazione del personale sanitario RSA e over 80. Non certo per la campagna di massa che dovrebbe partire ad aprile. Nel secondo trimestre sono previste 64,5 milioni di dosi, un terzo da AstraZeneca. E proprio in serata è arrivato il via libera della Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco alla possibilità di somministrare il vaccino di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone condizioni di salute. L'obiettivo del Ministero è di arrivare a 500 mila vaccinati al giorno, 6 milioni di italiani al mese, utilizzando soprattutto medici di base e pediatri. Cambiamo argomento. Si aprirà questa mattina il processo a carico di Antonio De Marco, l'assassino reo confesso della coppia massacrata a Lecce in via Montello. I legali del 21enne di Casarano, che non sarà presente in aula, chiederanno il rito abbreviato. Ce ne parla Paolo Franza. Era il 21 settembre del 2020, quando a Lecce avvenne uno dei massacri più atroci, non solo per l'esecuzione, ma anche per i motivi tanto futili quanto assurdi. Eleonora Manta, 30 anni di secli, dipendente IMSS, e il suo fidanzato, Daniele De Santis, 33enne di Lecce, arbitro, vennero uccisi con 39 coltellate totali. Un'azione durata pochi minuti. Sin da subito i carabinieri hanno puntato l'attenzione su di un giovane, studente di scienze infermieristiche arrestato dopo una settimana. Antonio De Marco, 21 anni, di Casarano, ha ammesso poi le proprie responsabilità. Le motivazioni sono state in parte confessate dallo stesso e in parte contenute nei suoi diari. Una rabbia scaturita dalla frustrazione di sentirsi solo e non amato. Aveva pianificato tutto da tempo, scrivendo, disegnando e raccontando in un fumetto la vendetta. Quella sera, con il volto coperto da una calzamaglia con dei fori per gli occhi e il disegno di una bocca sorridente, armato di un pugnale da caccia, entrò nell'appartamento di Via Montello, dove aveva vissuto per qualche mese come affittuario con una copia delle chiavi, e aggredì la coppia di fidanzati durante l'ora di cena. Nella fuga tra le cose perse, anche dei bigliettini, con suscritte le fasi del delitto, con le torture e una macra bacaccia al tesoro. Perché proprio l'onore a Daniele? Erano troppo felici, ha raccontato nella sua confessione. Nel processo che si aprirà in mattinata, gli avvocati di De Marco, che non sarà presente in aula, avanzeranno richiesta di rito abbreviato. L'istanza, con tutta probabilità, sarà respinta perché la legge 33 del 12 aprile 2019 vieta l'applicabilità del rito speciale per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Lo faranno perché la legge potrebbe subire delle modifiche. Si punterà, con ogni probabilità, alla richiesta di una nuova perizia psichiatrica e il processo potrebbe essere sospeso per il tempo necessario a svolgere l'accertamento. Adesso una piccola pausa, ma ci rivediamo tra poco con gli approfondimenti dalle province. Rieccoci in studio con le notizie e apriamo con Foggia. Il DNA ha confermato purtroppo che i resti di un corpo rinvenuti sui binari della stazione di Foggia appartengono al 29enne Marco Ferrazzano, il giovane scomparso lo scorso 22 gennaio. Poche ore fa il disperato appello del padre. Oggi una triste certezza per Marco Ferrazzano, il giovane 29enne scomparso a Foggia il 22 gennaio scorso del quale si erano perse le tracce. L'esito dell'esame del DNA sui resti di un corpo rimasto travolto sui binari della tratta ferroviaria a Foggia Bari nello stesso giorno appartengono a Marco. Sulla vicenda si aprono scenari inediti per quello che poteva sembrare in un primo momento un allontanamento volontario, ipotesi subito scartata per una persona fragile come Marco che aveva vissuto per anni a Verona, trasferitosi a Foggia tre anni fa per andare a vivere con la madre. Non si esclude che il ragazzo sia stato vittima di atti di bullismo. Le indagini avviate dalla procura di Foggia dovranno accertare le cause che hanno portato alla morte del ragazzo. I familiari del 29enne il 25 gennaio scorso avevano ripetutamente chiesto l'esame del DNA sul corpo investito da un treno sulla linea Foggia Bari. L'orologio, il giorno della scomparsa, si ferma esattamente alle 15. Dei resti di quel corpo recuperati sui binari non erano state trovate neanche le scarpe. Nella vicenda c'è anche il furto del cellulare del ragazzo. Chi ha rubato quel telefonino può essere in qualche modo collegato alla scomparsa di Marco Ferrazzano? Marco quel giorno aveva detto che avrebbe dovuto incontrare un amico. Un incontro che a quanto pare non è mai avvenuto. Avvocato Di Leo, dopo quanto è accaduto, cosa ci dobbiamo aspettare? Innanzitutto il tema delle indagini è diverso adesso. Il povero Marco è stato ritrovato e quindi è necessario svoltare sulle indagini, capire un attimo questo ragazzo da chi veniva bullizzato. Sarà difficile eventualmente scoprire chi gli ha rubato il telefonino, la sim, però il ragazzo aveva dei problemi con questi ragazzi del quartiere ed è necessario capire chi eventualmente è stato così delinquente, direi, così vigliacco da comportarsi male con questo ragazzo e capire che cosa è successo negli ultimi video che pare siano stati postati in alcune piattaforme social abbastanza famose che voi sapete benissimo. Alcuni sono stati rimossi, altri però ve ne rimane traccia. Dobbiamo fare questo tema, dobbiamo agire su questo tema di indagine. Quale appello si sente di rivolgere alla cittadinanza? Beh, io ho visto sui social, ho visto in televisione, che comunque il tema di questo ragazzo è stato molto preso dal punto di vista emotivo. Quindi io chiedo ai ragazzi dell'età di Marco, ai genitori, a chiunque abbia in possesso, con chiunque abbia dei video, abbia notizie di comportamenti simili, di cyberbullismo o di video mandati in rete o su piattaforme social, ma anche agli stessi gestori, di farci sapere qualcosa. Questo è un fenomeno che deve chiudersi, dobbiamo scoperchiare questa pentola e dobbiamo porre fine con un'attività di indagine che spero venga approfondita dalla Polizia Postale per quello che sta succedendo. Veniamo adesso a dei numeri. In Puglia l'esercito invisibile, sono 4.344 gli scomparsi fino al 31 dicembre scorso, persone delle quali non si sa più nulla. A dirlo è la relazione, una relazione del commissario straordinario di governo e per l'82% di questi scomparsi sono tutti minorenni. Sentiamo Antonio Bucci. 4.344, tante le persone scomparse in Puglia fino al 31 dicembre scorso, un vero e proprio esercito fantasma. Volti e storie dai contorni ancora incerti, partiti per chissà dove, in alcuni casi, senza fare ritorno. In circa 1.600 ogni mese spariscono dei radar in tutta Italia, a dirlo i numeri della 24esima relazione del commissario straordinario del governo. 100 unità in più nello scorso anno, soltanto nella nostra regione, fanno i conti dal Viminale, per l'82% minorenni, in larghissima parte di origine straniera, ma tra loro ci sono anche 503 italiani. Il report allarga lo spettro fino a mezzo secolo fa, in 46 anni, oltre 16.000 le persone delle quali è stata denunciata la scomparsa su tutto il territorio regionale, 6.500 dei quali non italiani, più della metà con meno di 18 anni. E la data di partenza del monitoraggio non è neppure casuale, dal momento che prende il via da quando in Italia è stata istituita una banca dati specifica dal 1974. Uno scomparso su quattro non è stato più ritrovato, 59 cadaveri mai identificati, cifre che fanno salire la Puglia al sesto posto su scala nazionale, con il 6,4% del totale delle denunce. Nel periodo dello screening, la provincia capoluogo a mantenere i numeri più rilevanti, mentre quella con il dato più basso e la BAT, con soltanto due casi dai quali si sono perse le tracce. Persone. Non solo un fatto di pallottoliere si intende, se si serrano i ranghi relativamente agli ultimi 13 anni, l'area metropolitana di Bari supera le 4.000 unità segnalate, di 746 di loro. Non si è saputo più nulla. Voltiamo pagina e torniamo a parlare di Covid e della situazione epidemiologica. Al vaglio della regione ci sono anche nuove restrizioni per l'intera Puglia dopo il dilagare di questa variante inglese. A quanto pare però le province con il più alto numero di contagi al momento sarebbero Taranto e Brindisi. Sentiamo. Nuove misure restrittive potranno essere annunciate nelle prossime ore dalla regione Puglia e non riguarderanno soltanto il mondo della scuola. La presenza della variante inglese è sempre più in crescita, preoccupa e non poco gli esperti. Il 12 febbraio è stato analizzato un campione di 645 tamponi, riscontrando tracce della variante in 245, pari al 38,6%. A Taranto e Brindisi il tasso più alto 45,8% e 55,8% dei tamponi testati. L'assessore alla sanità Lopalco fa sapere che si sta lavorando la programmazione di ulteriori azioni di contenimento insieme al capo del Dipartimento della Salute Vito Montanaro e al presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Sul fronte ai vaccini, l'AIFA, su proposta del Ministero della Salute, sta valutando la possibilità di ampliare il limite di età per l'uso di AstraZeneca, velocizzando la campagna vaccinale. Intanto Moderna comunica un nuovo provvisorio taglio nelle forniture. Nei prossimi giorni arriveranno solo 15.500 dosi su 29.500 programmate. AstraZeneca consegnerà 20.000 dosi, Pfizer 38.000. Intanto nulla di nuovo sul coinvolgimento dei medici di base nella campagna vaccinale. La categoria vuole partecipare, ma ancora nessun accordo è stato siglato. Il Pala Carbonara è il primo hub individuato dal comune di Bari per la somministrazione dei vaccini agli ultraottantenni. Insegnanti, personale scolastico e forze dell'ordine. Si parte lunedì, ma l'amministrazione è pronta a trovare anche altre location. La seconda fase della campagna vaccinazioni anti-Covid prenderà il via ufficialmente il prossimo 22 febbraio con la somministrazione al personale scolastico e alle forze di Polizia Under 55 e agli over 80. Il capologo pugliese non si fa trovare impreparato, predisponendo le attività anche all'interno del Pala Carbonara. La struttura di via Fratelli De Filippo, infatti, è stata individuata come hub da Prefettura e Palazzo di Città per procedere con il piano, alleggerendo il carico di ospedali e presidi sanitari. Ma c'è un'altra possibilità al vaglio dell'amministrazione comunale, ovvero quella del Palaflorio al quartiere Iapigia. Questi temi sono stati discussi nelle scorse ore in una riunione in Prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, durante il quale sono stati stabiliti anche il servizio di vigilanza nei punti vaccinali dedicati alla popolazione over 80 e l'organizzazione delle procedure dedicate al personale scolastico e forze dell'Ordine Under 55, al quale verrà somministrato il vaccino AstraZeneca, più facile da gestire e non sottoposto alla conservazione a temperature basse, come il Pfizer. Gli uffici sanitari delle forze di polizia hanno assicurato l'immediata disponibilità a effettuare direttamente le somministrazioni al personale interessato. Il Palacarbonara, quindi, nella parte nuova dell'omonimo quartiere Varese, sarà utilizzato sia per le vaccinazioni degli 819 insegnanti, operatori scolastici e personale dipendente delle attività che prestano forniture alle scuole comunali, sia per la popolazione over 80 che in questi giorni sta effettuando la prenotazione. Il Comune, nello specifico, si occuperà anche di attrezzare la struttura secondo le indicazioni dell'ASL e di reclutare personale volontario tra protezione civile e forze dell'ordine in pensione per gestire la fase di accoglienza e smistamento dei soggetti che si sottoporranno alla vaccinazione. Sono in corso ulteriori verifiche per individuare altre strutture nella disponibilità del Comune che possono risultare idonee per la stessa operazione. Da Palazzo di Città è partita anche la manifestazione di interesse per raccogliere le disponibilità alla vaccinazione da parte della Polizia Municipale. La Regione Puglia proprio nelle ore scorse ha sbloccato 20 milioni di euro per i cosiddetti ristori che però riguardano una ventina di comuni delle province di Bat, Foggia e di qualche comune del Barese interessati dal lockdown, dalle ulteriori misure restrittive che ci sono state nella settimana precedente Natale proprio perché erano state individuate come zone ad alto rischio. Se ne è parlato di questo in Camera di Commercio a Foggia. Sentiamo. Circa 300 attività di quelle maggiormente colpite dall'ulteriore chiusura per la zona arancione a cavallo dell'Immacolata hanno già inviato domande per il decreto ristori da 20 milioni di euro promesso dalla Regione Puglia il cui avviso pubblicato nelle scorse ore gestito dalle Camere di Commercio di Foggia e Bari sembra aver riscosso grande successo grazie alla sua procedura realizzata in modo semplificato. E' proprio questo uno dei temi primari sollevati dal Vice Presidente della Regione Piemontese nel corso di un confronto a 360 gradi avvenuto con l'Aggiunta della Camera di Commercio di Foggia alla presenza anche dell'Assessore allo Sviluppo Economico dell'Inoci per parlare delle strategie di sviluppo per la ripresa economica post-pandemia. Ritornare alla normalità sì, ha detto Piemontese ma sfruttando i soldi che arriveranno dall'Europa per affrontare e superare i deficit strutturali del nostro territorio come ad esempio l'eccessiva burocrazia e gli iteri amministrativi troppo lunghi. Sarebbero riforme organiche e strutturali ha affermato Piemontese rispondendo alla Giunta che da col diretti a Confagricoltura passando per l'Asi gli ha presentato la lista della spesa sotto la voce rilancio della Capitanata le problematiche del mondo agricolo con annesso progetto della conduttura idrica dal Molise con grano duro la diga piano dei limiti il turismo il piano di rilancio per le zone di sviluppo industriale le infrastrutture digitali quindi internet e banda larga oltre all'estraria e al problema dell'accoglienza. Vogliamo costruire con le Camere di Commercio un tavolo di lavoro per la nuova programmazione stiamo a lavoro già su questo vogliamo ascoltare molto quelli che sono i pregi e difetti della scorsa programmazione e costruire la ribartenza. È evidente che noi stiamo ragionando anche con il Governo nazionale per fare in modo che le risorse straordinarie che vengono messe a disposizione del Sud possano contribuire a far fare quel salto di qualità a superare la questione meridionale a fare investimenti che danno alla Puglia, al Sud e all'Italia la possibilità di fare un salto di qualità. Quindi entrambe le cose dare risposta ai bisogni primari ma nel contempo guardare al futuro e fare investimenti imponenti. 12 assegni di ricerca sono stati pubblicati da Università di Bari e Politecnico per la individuazione di progetti che entrino a far parte del piano strategico 2020-2030 della città metropolitana di Bari un piano strategico che è stato adeguato ai nuovi tempi. Sicuramente il Covid ha messo ancora di più al centro dell'attenzione le politiche ambientali e la necessità di creare nei nostri centri urbani spazi sempre più a misura d'uomo e meno a misura di auto con ovviamente la possibilità anche di godere di momenti di aggregazione collettiva con distanze di sicurezza. Quindi questo significa che le città devono essere ripensate. Università di Bari e Politecnico insieme per redigere il piano strategico 2020-2023 della città metropolitana di Bari sono stati pubblicati sui siti web dei due enti i bandi per il conferimento di 12 assegni di ricerca 7 per il Politecnico e 5 per l'università destinati a giovani professionisti il cui compito sarà quello di contribuire attraverso un'attività di studio e di ricerca alla redazione del programma. Il processo di pianificazione strategica della città metropolitana di Bari avviato già 5 anni fa è fondato su una costante continuazione di copianificazione e coprogettazione con i 41 comuni metropolitani e sulla partecipazione delle fasce giovanili ad aprile del 2020 nella prima fase della pandemia è stato aggiornato alla luce della nuova situazione sociale ed economica che l'intera area metropolitana di Bari si trova ad affrontare. Una nuova lettura della mappa sociale si richiede in questo piano strategico che cosa vuol dire? La mappa sociale significa mettere al centro l'individuo e la fragilità dell'essere umano creando dei momenti urbani di accoglienza di questa fragilità. Tutti noi ci sentiamo minati da quello che è accaduto in quest'ultimo anno sentiamo che le nostre relazioni sociali sono state particolarmente provate da quello che è accaduto e quindi rivediamo i nostri momenti di relazione sociale all'interno delle nostre comunità in modo più distaccato quasi con timore questo però può portare a una disgregazione del concetto di comunità sul quale costruisce il proprio lavoro ogni sindaco e può creare dei momenti di solitudine e di abbandono anche del territorio urbano a favore di episodi anche di delinquenze di criminalità il tribunale di trani ha retto bene all'emergenza covid non sono mancate non mancano comunque le difficoltà come ci spiega il presidente del locale ordine sentiamo l'attività giudiziaria del tribunale di trani ha retto bene l'emergenza covid determinante è stata la collaborazione non sono mancate però le problematiche tuttora esistenti a tracciare il punto sul passato e sul futuro e il presidente dell'ordine degli avvocati del foro tranese Tullio Bertolino noi abbiamo un sistema di edilizia giudiziaria che oramai è vecchio e inadeguato ecco perché va tenuto presente ciò perché le persone che possono accedere contemporaneamente nei vari palazzi di giustizia ricordiamoci che trani ha una sistemazione ubiqua del settore giustizia perché è diviso in più plessi non consente di celebrare questo numero ridotto non consente di celebrare molti processi contemporaneamente e quindi se noi diciamo in via del tutto approssimativa che siamo intorno ad un 35-40% dei processi possiamo ritenerci soddisfatti perché la situazione logistica non è ottimale tempo addietro c'è stata la soppressione delle sezioni di staccate tutto il materiale tutti gli uomini e le donne sono confluiti nei palazzi di giustizia di trani ciò ha contribuito a creare un accavallamento di ruoli di udienze di processi importante problema da risolvere è quello relativo all'efficacia e alla velocità della rete il cosiddetto PCT cioè il processo civile telematico che è una piattaforma su cui si svolge la gran parte dei processi civili che cosa succede però che i server del processo civile telematico per tutto il meridione si trovano concentrati a Napoli se c'è un malfunzionamento di questi server si blocca l'intero comparto meridionale cosa che si è verificata poco tempo fa e vi è stato il blocco per alcuni giorni addirittura passando al settore penale fino a quando i collegamenti erano pochissimi cioè parliamo di due tre collegamenti quattro al massimo allora la rete bene o male riusciva a soddisfare la richiesta del flusso dei dati ma quando si è pensato di poter celebrare interi processi con molte più persone molti più collegamenti abbiamo verificato che in realtà non vi era la capacità della rete di trattenere tutti e di gestire tutti questi dati voltiamo pagina tra compiti per casa e pannolini ecco adesso vi parliamo di questo libro scritto da Nicola Borgia un ragazzo padre alle prese con la meravigliosa esperienza di crescere la sua piccola Valeria sentiamo quando in un mondo allo sbando è squilibrato come quello di oggi in cui è sempre più raro ammirare delle immagini rassicuranti che infondino fiducia a destreggiarsi tra pannolini compiti per casa e notti insonni e un giovane padre con gli occhi pieni d'amore e soddisfazione beh più che una notizia si tratta di una carezza confortante che fa besperare per il futuro se a questo aggiungiamo che per suggellare nel tempo la bellezza di queste esperienze è nato un manoscritto che racconta il senso di tutto ciò ecco spiegato perché la storia di Papa Nicola e della sua piccola Valeria merita di essere ascoltata questo libro nasce comunque dalla voglia di raccontare la mia esperienza in quanto giovane padre quindi un ragazzo padre e speravo anche attraverso questo libro di di dare una testimonianza anche dei consigli a tanti ragazzi che comunque come me si trovano in una situazione simile quindi spiegarli che sì è un percorso molto duro perché anche io ho dovuto fare molti sacrifici però comunque è anche un mondo bellissimo e appagante a che età sei diventato papà? ho scoperto di dover diventare padre quando avevo 19 anni da lì in poi è stata tutta una scoperta continua un viaggio qual era la tua paura più grande all'inizio e in che modo tua figlia è riuscita a scioglierla? allora la mia paura più grande inizialmente era quella che un giorno magari mia figlia guardandomi mi potesse dire che in realtà non sono stato un bravo padre non bisogna fare per forza di grandi gesti ogni volta basta comunque viverla giorno per giorno essere presente e il resto poi viene da sé quella paura poi è passata man mano diciamo giorno per giorno crescendo mia figlia ho imparato a superare questa paura perché la tua vita è più bella da quando hai Valeria? innanzitutto perché mia figlia mi ha dato indirettamente la possibilità di crescere di maturare quindi sono diventato più responsabile ho iniziato a preoccuparmi del mio futuro perché comunque da quel giorno in poi ogni decisione che avrei preso non sarebbe più ricaduta solo su di me ma anche su mia figlia chiudi gli occhi e fai e chiudiamo con i vini anche se l'orario non è dei migliori parliamo del Faragola delle cantine Placido Volpone di Ordona in provincia di Foggia che con 97 punti è ufficialmente il secondo miglior rosato d'Italia per l'annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni ce ne parla Attilio Scarano Il Faragola delle cantine Placido Volpone di Ordona in Capitanata è ufficialmente il secondo miglior rosato d'Italia a dirlo l'annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni l'azienda Foggiana è stata anche inserita tra le 100 eccellenze italiane 2021 sulla rivista Forbes Italia l'edizione italiana del magazine più famoso al mondo nell'ambito di economia classifica e leadership innovazione lifestyle Si tratta di un rosato IGP Puglia dal colore limpido e noterossastre con sentori di frutti rossi Si tratta di Nero di Troia che viene coltivato nelle campagne di Ascoli Satriano e noi ne siamo super orgogliosi L'annata è quella del 2019 il nome Faragola fa riferimento all'omonima Villa Romana Tarduantica presente nel territorio di Ascoli Satriano il paese di Michele Placido noto attore regista nonché cofondatore socio dell'azienda il vitigno è un Nero di Troia coltivato proprio ad Ascoli Satriano quindi in altura e su terreno pietroso impreziosito dall'incrocio dei venti che giungono dal Gargano e dai Monti Dauni Questo che vi presento adesso è il Faragola Faragola che è una nota zona archeologica di queste parti ed è il vino rosè vedete un bellissimo rosè che è prodotto sempre col Nero di Troia che ha avuto tanto successo quest'estate soprattutto nelle discoteche nei luoghi dove i giovani vanno a fare l'aperitivo ve lo raccomando perché è stato veramente un triunfo Faragola ci ha sorpresi Bene è tutto con l'informazione io vi ricordo il prossimo appuntamento alle 13 e 45 vi auguro una buona giornata a più tardi ben ritrovati l'informazione adesso prosegue con la nostra rassegna stampa ma prima come sempre uno sguardo alle notizie di respiro nazionale e internazionale in primo piano il governo Draghi incassa una larga la fiducia in senato e oggi toccherà alla camera il Movimento 5 Stelle produce 15 no 8 invece erano gli assenti la governance intanto del movimento torna a 5 in merito al covid c'è un nuovo piano vaccini che prevede lo stop alle cosiddette primule e 300.000 volontari l'obiettivo è raggiungere 500.000 somministrazioni giornaliere e intanto sono altri 369 i morti a causa del covid per il tema della camorra è morto in carcere a 79 anni il boss Raffaele Cutolo un 17enne invece è stato ucciso in una rissia a Formia confermato un coetaneo del casertano in merito all'exilva di Taranto come sapete dure richieste di condanna per Fabio Nicola Riva rispettivamente 28 e 25 anni nel processo sull'inquinamento ambientale tra gli imputati anche l'ex governatore di Puglia Nicchi Vendola per i quali sono stati chiesti dai PM 5 anni lui ha detto sono tranquillo ho fiducia nella giustizia lo Sport Champions Juve KO 2-1 in Portogallo nell'andata degli ottavi per l'Europa League invece stasera i sedicesimi per Roma Milan e Napoli adesso invece vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani locali però a partire dal dorso nazionale della Gazzetta del Mezzogiorno Draghi chiama l'Unione italiana scuola calendario lungo sud legalità sicurezza e credito d'imposta al Senato indicate le sfide per uscire dalla crisi sanitaria ed economica ricostruiremo il paese ha detto come nel dopoguerra riforme e ancoraggio all'euro adesso andiamo avanti vediamo che cos'altro propone Gazzetta oggi in prima intanto c'è una bella vignetta di pillinini e poi potremmo dire quasi di spalla c'è il tema del covid in particolare in Puglia con Bari inchiesta sull'ospedale in Fiera variante del virus pronte nuove misure in Puglia la mutazione è stata rilevata in 47 comuni un focolaio a Fasano siamo pronti a chiudere tutto dice l'assessore Lopalco al centro l'exilva pugno di ferro dei PM chiesti 28 e 25 anni per Fabio Nicola Riva 5 per vendola il processo ambiente svenduto per l'inquinamento che sarebbe stato prodotto dal siderurgico gli imputati lo ricordiamo sono 47 44 persone 3 società accusati di associazione per delinquere nel taglio basso imprese e disabili allo stremo a Bari torna la battaglia delle protesi basta con le minigare della ASL travolto dal treno per evitare i bulli a Foggia avanza l'ipotesi è stata intanto accertata l'identità 9 arresti per droga da Altamura a Potenza le fidanzate pare venissero utilizzate come corrieri Regione Puglia nominati gli 007 delle ASL lavorano a titolo gratuito la gazzetta di Bari adesso il titolo principale è quello dedicato al G20 simbolo di rilancio una chance contro la crisi e dramma intanto per i ristoratori e costi fissi che restano insomma sarà un'ecatombe ascoltando le loro voci intesa tra città metropolitana e Matera su accoglienza turismo e cultura per il summit fissato per il 29 giugno Vasile vicepresidente di ADP un'occasione straordinaria la città deve farsi trovare pronta protesi l'urlo delle imprese qui si chiude l'appello accorato da una sanitaria si trovi un'alternativa alle miligare della ASL dopo mesi nessuna soluzione nel Bares in merito a questa avvertenza al centro c'è la muraglia ripulita dalle scritte dei vandali 500 euro spesi malissimi l'amio ha pulito la muraglia di via Venezia il sindaco De Caro su facebook ha parlato però di questi costi riferendosi evidentemente alla sfida lanciata ai vandoli offrendogli un'alternativa organizzare un evento lì o trovare muri senza vincoli dove sfogare la propria street art una strada già percorsa anche in altri luoghi della Puglia e più in generale in Italia che produce spesso dei buoni risultati in basso il bando per la progettazione partecipata del piano strategico la città metropolitana recluta i professionisti Socrate di nuovo in piazza non dividete i migranti la protesta dell'associazione che si mobilita per domani a partire dalle 9.30 la Norman Atlantic i giudici una competenza territoriale a Bari il processo non si sposta e in Grecia i primi verdetti adesso la gazzetta del Salento Ilva il conto salato dei PM chiesti pensate quattro secoli di carcere i fratelli Riva come detto tra 25 e 28 anni di reclusione queste le richieste lo ricordiamo la pubblica accusa ha chiesto anche la confisca degli impianti e di due miliardi di euro alle società imputate giornata di agitazione degli operai in cassa integrazione la mediazione intervenuta vede i protagonisti il prefetto e il sindaco come vi abbiamo raccontato nei Tg di spalla c'è la brutta vicenda che arriva dal Salento perché oggi in corte d'assise non ci sarà Antonio De Marco intanto parte il processo senza il killer in merito ai due fidanzatini uccisi li vedete in foto Eleonora Manta e Daniele De Santis a centro pagina l'allarme covid 349 nuovi casi 8 decessi nel Salento siamo nel taglio medio ordinanza restrittiva del sindaco di Martina Franca a Taranto detenuti con il reddito di cittadinanza scattano 12 denunce taglio basso adesso quadro bocciato dalla curia l'artista cancello il politico buttazzo lancia una proposta per il suo trittico pronto soccorso che sarebbe allo sbando un medico minaccia un'auto denuncia ospedale Perrino carenza di personale e attese infinite nella città adriatica foggia i batti invece con un'apertura con i resti di Marco la conferma arriva dal DNA c'è chi si divertiva squalidamente a filmarlo per via di alcuni problemi psichici in corso le indagini Ferrazzano fu travolto da un treno un gesto per dire basta ai bulli insomma le ipotesi sono agghiaccianti ma le indagini naturalmente devono andare avanti sotto il convoglio il 22 gennaio scorso e poi le ricerche la tragica conferma che oggi arriva dal DNA a carosa discariche a contrada tuffarelle non è finita la recente sentenza del Consiglio di Stato ha solo frenato un nuovo impianto un tavolo a foggia per l'SOS lanciato dalle imprese servono investimenti contro il virus in senso lato naturalmente per combattere la crisi economica da esso prodotta in basso foggia il covid rallenta domenica vaccini nella bat ieri 98 casi e due morti ma il quadro resta poco decifrabile il calcio di Serie C decisivo il suo gol nel turno infrasettimanale quello di Musso che stende la Viterbese bisceglie così torna al successo e adesso ad Andria con la prossima notizia Montarulli di Unibat chiede un confronto con l'assessore per il trasferimento del mercato serve un cambio coraggioso dicono qui nella colonna a destra tangenti al comune cosa disse l'accusatore siamo a Foggia Lucera soldi nel ministero per sistemare l'area del castello a Vico Gargani con auto fuoristrada ha perso la vita un 37enne di Ischitella a Berletta la morte di Hamed la Flai CGL in calza e le istituzioni su questi temi adesso il nuovo quotidiano di Puglia la pagina di Brindisi la mancetta in alto con l'evento in programma a giugno il G20 a Brindisi la prefettura e il comune a lavoro per organizzare l'incontro intanto fissato per oggi invece un vertice di preparazione acquisto delle dosi ora la Puglia apre la regione non esclude più l'ipotesi extra UE per aumentare le forniture di vaccini e accelerare le somministrazioni in arrivo la stretta contro le varianti l'ultimo report più casi tra gli under 13 di spalla riflettori su procedure d'appalto e costi la procura indaga sull'ospedale in fiera a Bari la struttura anti-covid non è ancora entrata in funzione al centro c'è invece il nuovo governo con in foto il premier incaricato il discorso programmatico pronunciato al senato ricoveri sud la linea del governo basta con le disuguaglianze un intoppo che fa saltare gli sgravi fiscali e poi naturalmente non manca una notizia che parla dell'inchiesta ambiente svenduto con le richieste dei PM chiesti 390 anni di carcere per la famiglia Riva dirigenti e politici naturalmente si tratta di una somma di tutte le richieste che vanno nei casi più gravi dai 28 anni fino a pochi mesi come 8 mesi per l'ex assessore regionale Franto Glianni 5 per l'ex governatore Vendola 8 mesi anche per Pentasuglia ora assessore regionale dell'agricoltura in basso c'è un intervento la cultura e la scuola leve strategiche per il futuro a dirlo è Massimo Brai adesso invece nel sud di Taranto nella mancetta in alto ok allo schema di convenzione bibliorete i libri saranno alla portata di tutti anche la città di Taranto entra nella rete regionale l'apertura invece inevitabilmente dedicata al maxiprocesso chiamato a chiarire le responsabilità sul presunto disastro ambientale causato a Taranto dalla grande industria in particolare da quell'IVA che fu gestita dalla famiglia Riva a partire dal 1995 interessante rilevare come già da quella data come vi abbiamo raccontato più volte i PM hanno sottolineato sarebbero stati necessari degli interventi per l'ambiente sostanzialmente a quanto dicono mai portati avanti perché la priorità era la produzione intanto naturalmente fa discutere e preoccupare la richiesta anche di confisca degli impianti dopo la sentenza del Tar un futuro sempre più in bilico non soltanto per gli impianti ma anche per la città di Taranto vedremo dove si andrà a finire quali saranno le ulteriori novità la corsa alle scorte ora è insufficiente parliamo di vaccini adesso la Puglia apre all'acquisto delle dosi siamo a centro pagina intanto si indaga sulla struttura in fiera a Bari come abbiamo visto anche sulle altre pagine intanto per il commercio c'è un allarme dall'associazione di categoria Conf commercio imprese nella rete dell'usura pesanti conseguenze di questa crisi da pandemia i fissi e facciate seconda fase per il restauro di Palazzo Archita naturalmente riferimento a Taranto anche a Lecce i titoli restano quelli principali che abbiamo potuto leggere sulle altre pagine chiudiamo con lo sport Chiesa la tiene viva un gol di fede dalla scossa una brutta Juve parliamo di Champions la serata nera di Ronaldo rabbia per un rigore negato al centro non manca la pagina pugliese buona la prima il Bari torna a vincere battuto il Monopoli con un gol dell'attaccante Cianci e allora è tutto per la rassegna stampa grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento su Antenna Sud grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti